Il nuovissimo SPZ Merch è finalmente uscito Andate su FedericoSPZGames.it per essere i primi ad acquistare la nuovissima collezione Ciao a tutti venuti in questo nuovissimo video di DotMe Oggi andremo a vedere segreti del nuovissimo aggiornamento del deserto Ho visto cose assurde tipo passaggi segreti Quindi oggi andremo a vederle insieme Ma prima di iniziare questo video Se anche voi volete il vostro dreampad Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale e commentate il vostro username Roblox Vi ricordo anche di seguirmi schiacciando i tre puntini in alto a destra E unirvi al mio gruppo SPZ Squad Dove potete trovare nella sezione negozio tantissime magliette Se invece volete la mia amicizia su Roblox Giocare con me o fare un video con me Andate su www.FedericoSPZGames.it E andate a dare un'occhiata agli abbonamenti Eccoci qui su AdoptMe E come al solito siamo nel mio castello Che purtroppo non matcha molto secondo me il tema che c'è ora Sapete cosa? Potrei switchare pure casa ora che ci penso Perché io ho la Sandbox Island E secondo me per questo evento Cioè non dico che è la casa giusta Però ecco si dai insomma Secondo me per questo evento ci sta Utilizziamo questa casa anche se purtroppo non ho niente Cioè ho costruito tipo una roba là sopra Non è la cosa migliore che abbiamo costruito Quindi insomma niente Lasciamo perdere Usciamo da questa casa Volevo solamente ecco e stare in tema E raga volevo parlarvi di cose Insomma volevo farvi vedere segreti di questo aggiornamento Che secondo me molti di voi nemmeno si sono accorti Perché purtroppo in realtà non è che potete proprio vederlo Cioè è una cosa che posso fare solo io Quindi adesso userò dei trucchi segreti Vi faccio vedere Comunque in ogni modo volevo andare al centro Raga perché volevo parlarvi di una cosa Ovvero dell'evento Ho dato delle informazioni sbagliate nel video precedente Non so se l'avete visto ve lo lascio qui da qualche parte se ve lo siete perso Ma spiegavo come ottenere il Royal Desert Egg Se non sapete che cos'è è un uovo esclusivo che si può ottenere solo facendo questa specie di minigame Sbarra puzzle E raga io ho detto no non c'è bisogno che ne dovete mettere tutti i giorni una statua Perché io ho letto così da i creatori di Adotmi Insomma dalle persone che si occupano di Adotmi In realtà invece non è proprio così Cioè nel senso dovete mettere ogni giorno due statue Perché se non lo fate Ecco insomma non potete ottenere l'uovo Quindi mi raccomando tutti i giorni loggate su Adotmi Aspettate quei 40 minuti circa Perché in teoria ci vuole 20 minuti tra una statua e l'altra E mettete le varie statue mi raccomando Allora Fatemi un attimo vedere piccolo recap Oggi siamo al secondo giorno E come pet confermati abbiamo Allora intanto il stavo dicendo lupo No coiote Ok abbiamo il coiote carinissimo secondo me Ve l'ho fatto vedere anche in HD Poi ve lo faccio rivedere anche oggi E abbiamo raga Allora devo trovare gli altri pet perché li ho persi Il serpente a sonagli Che anche questo qua è carinissimo Non so se lo vedete Magari usiamo la free cam Perché secondo me sono riuscito a vedere Eccolo qua Serpente a sonagli Veramente veramente carino E poi invece qua abbiamo L'armadillo Anche questo pet bellissimo Tantissimo richiesto dalla community di Adotmi Sono sicuro che le persone saranno felici di questo pet L'armadillo E poi abbiamo questo pet Che in realtà Forse ho capito perché c'era il pesce raga Ora tutto ha più senso Perché il nome suo inglese Dovrebbe essere Sandfish Cioè c'era un pesce Molti non capivano Infatti in live l'abbiamo sbagliato Praticamente tutti ci abbiamo messo un sacco a trovare la formina Perché per chi non lo sapesse Ma queste formine qua Corrispondono A un determinato pet Comunque Io parlerò di tutti i pet Che escono nel prossimo video Quindi state tranquilli Faccio un video dedicato Dove vi mostro tutti i pet Che usciranno in quest'uovo Però per il momento Oggi parliamo E ci occupiamo di segreti Perché si raga Abbiamo dei segreti E soprattutto Vi faccio vedere Come sbloccare La sfinge Quindi come aprire la sfinge Perché in realtà Non so se lo sapete Ma questa sfinge qua Che vedete È in realtà Raga Un passaggio segreto Infatti vedete che tipo Ci sono dei passaggi Cioè non so se molti di voi Se ne sono resi conto Ma ci sono dei passaggi segreti Quindi oggi Andremo ad esplorarli E andremo Andremo anche a vedere Se in qualche modo Insomma possiamo Glicciare Però ecco Insomma Adesso Prima cosa Anzi strana Prima di farvi vedere Il passaggio segreto Se andate qua C'è scritto È talk E parliamo con la sfinge Ma vi faccio vedere una cosa Siccome io Se voi mi chiedete Ma come si fa a fare Questa roba qua Che si chiama free cam C'è tipo anche su Brocaven Nei server privati Questa roba qua Raga Si può fare Solo se avete il nome d'oro Quindi posso farla solo io E altri Contra in creator Raga Se utilizziamo Questa roba E scendiamo qua Vi faccio vedere Una cosa assurda Cioè vabbè Se scendiamo così Sembra che non c'è niente Ma se scendo ancora dritto Raga avete visto? Avete visto? Mi si glitcha ogni volta Cioè ogni volta che provo a fare questa cosa Tipo mi si glitcha il gioco Vedete? Mi ha portato da un'altra parte E mi riporta a casa Vi giuro che c'è qualcosa Non so perché mi glitcha Ogni volta Ogni volta che provo a guardare Quello mino nero Mi si glitcha tutto il gioco Allora Provo a rimanere tipo fermo qua Non capisco perché faccia questa cosa Vi giuro Allora proviamoci di nuovo Questo qua è l'omino Cerco di non avvicinarmi troppo Perché ogni volta che mi avvicino Fa una cosa strana Allora intanto è super inquietante State vedendo Veramente veramente inquietante Però ogni volta che provo ad andare lì Vi giuro che tipo Boh Non lo so Fa cose strane Quindi Meglio che Non faccio niente Non so se lo vedete Ha tipo un sorriso Non so se si vede Io riesco a vederlo Tipo uno smile Tipo classico nube Vabbè Non si vede molto bene Comunque vi assicuro che qui Dove c'è scritto E per parlare c'è questo omino Non so perché c'è questo omino Probabilmente C'è perché Serviva tipo una specie di persona per parlare Questo non lo so Perché non ho mai utilizzato la free cam Per fare questa roba Quindi magari prossimo evento Che trovo Qualcosa dove c'è scritto E per interagire Per parlare Magari provo a vedere Se c'è una specie di omino simile Se c'è significa che Serva quello Comunque Andiamo al succo del video Andiamo ad aprire La spinge Perché si Se andiamo ai lati Possiamo vedere che c'è Un vero e proprio Passaggio segreto Cioè vedete Guardate che roba Sicuramente questo qua Verrà aperto Una volta che Completiamo Tutte le statue E raga Se entriamo Anzi entriamo dall'altra parte Che secondo me E' meglio Perché E' più da effetti Vi faccio vedere Praticamente qua Proprio sotto l'uovo Questo qua è Royal Desert Egg Mi raccomando Cioè non confondetelo Col Desert Egg Quest'uovo qua Non sarà nella Gumball Machine Ma si potrà ottenere Solo mettendo tutte le statue Tutti i giorni Ok Molti hanno avuto confusione Mi hanno chiesto Ma quindi Fede Ci sono due uova Sì ci sono Letteralmente due uova Cosa mai vista Su Adopt Me Perché in genere Rilasciano solo l'uovo Tipo il Safari Egg L'Ocean Egg Woodland Egg Mentre a questo giro Hanno fatto una versione Dell'uovo Ovvero il Desert Egg Più Il Royal Desert Egg Che si può ottenere Solamente questi 13 giorni Dovrebbe essere Sì 12 giorni Perché ovviamente Adesso l'evento sta finendo Però ecco Avete capito Ci sono due uova A questo giro Quindi non so perché È una cosa speciale Ma secondo me ci sta Quindi con questo uovo qua Segreto Possiamo avere più chance Di ottenere un leggendario Siete pronti per vedere Cosa c'è qui sotto Per vedere il segreto Che si cela Sotto la sfinge Come aprire la sfinge Allora 3 2 1 Guardate Devo andare piano eh Perché se no Vedete C'è tipo Un passaggio Segreto Sotto la sfinge E sotto L'uovo Cioè vedete Proprio con un meccanismo Con delle Con degli ingranaggi Proprio tipo per far Aprire il ponte Levatoio E Perché questo qua è proprio un ponte Vedete che c'è Questa specie di fessura qua Ecco Il legno E in teoria Ci dovrebbe essere Tutto un meccanismo Una volta che inseriamo Tutte le statue Che ci fa aprire Questo portellone E raga Da quello che vedo Vedete che tipo C'è un coso nero E Dovremmo andare Cioè ovviamente se io continuo ad andare avanti Non c'è niente Ma Quella cosa lì Dovrebbe indicare Tipo un portale Che ci porta Un'altra mappa Da un'altra parte Di un'isola Quindi magari per ricevere Quest'uovo Dobbiamo mettere Tutte le Le statuine E poi dopo Venire qua Si apre questa specie di ponte E dobbiamo scendere 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 Entriamo qua E ci porta tipo In un'altra zona Che al momento non c'è Dove Praticamente Boh non lo so Ci da l'uovo Dove ci sarà l'uovo Seduto su un trono Non lo so Qualcosa di Secondo me ci sarà una roba del genere Allora volevo dare un'occhiata Ancora qua Nei dintorni Per vedere se c'è qualcosa Che mi è sfuggito Però a me non mi pare Mi sembra un mucchio di roccia C'è una roccia messa qui A caso Vediamo come mai Ah no è proprio una roccia messa Lì a caso Ok abbiamo cactus Cactus Non mi sembra di vedere Roba strane Questa roba blu Cosa sarebbe Non so cosa sia questa Boh raga Non ho più pali idea di cosa sia Boh Dei cubi blu Ah niente si Dei cubi blu Sono in realtà la strada Ok Ehm no Questo qua è il Coso Il ponte di prima Che abbiamo visto Qua c'è la spinge Ma eh Non mi sembra ci sia Nulla di super strano Sto anche provando Ad andare molto molto indietro Per vedere se c'è qualcosa Però raga non vedo niente Avete notato che però È cambiato il cielo su Adotmi Io sono l'unico che l'ha notato Ci hanno messo queste nuvole Prima non c'erano Mi sbaglio Comunque niente Qua ci sono le piramidi Molto grandi Tra l'altro Però non Cioè non vedo Non noto niente di strano Quindi insomma Niente questo qua Ok vi ho fatto vedere Praticamente tutto Però ultimissimissima cosa Che voglio provare È quella di glitchare Tipo con Drew Anche se la vedo molto difficile Però ci voglio provare Allora prendiamo Il passeggino Prendiamo Drew E quello che voglio fare È tipo questa cosa qua Cioè nel senso Mi metto in questa specie Di posizione Però devo andare molto lentamente Se no non funziona Ok tipo così Cioè se io mi metto qua Col passeggino Lascio Drew Eh no raga Non funziona Provo a fare la stessa cosa Tipo sul retro È l'unica cosa Che mi viene in mente E purtroppo Non ci passiamo Perché siamo troppo alti Ma se tipo Mi switcho E divento bambino Funziona questa roba O non funziona Cioè ok sì Ovviamente se divento bambino Funziona Però posso da bambino Prendere il passeggino Eh Sì Però ecco Diciamo che Ok in un qualche modo Mi sono glitchato Raga E per assurdo Sono dentro la spinge Non so nemmeno Come abbia fatto Ok provo di nuovo A glitchare Tipo In questo modo Ma non mi sembra Funzioni proprio bene Niente raga L'ho provata tutte E finisco sempre Tipo per Insomma Finire qua In questa zona Quindi credo Abbiamo fatto in modo Che non si possa Insomma Trapassare questa roba Quindi niente Direi di concludere qua Questo video Fatemi sapere Nei commenti Se conoscevate Queste cose Questi segreti All'interno del nuovissimo aggiornamento Se vi è piaciuto questo video Vi ricordo di lasciare Un bel mi piace Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo domani In un nuovissimo video Ciao Ciao Grazie a tutti.